In piena notte, con un coltello da cucina alla mano, hanno minacciato e ferito nel corso di una violenta collutazione il dipendente di un'area di servizio di Bisceglie per poi dileguarsi a bordo di un'auto guidata da un complice. Grazie alla reazione della vittima e all'immediato intervento dei carabinieri, i rapinatori sono stati individuati e arrestati poco dopo dagli uomini delle forze dell'ordine. Si tratta di un 24enne, Antonio Di Liddo, e un 19enne, Onofrio De Pasquale, entrambi di Bisceglie. A tradire il gruppo è stata l'autovettura usata, messa a disposizione da un amico dei due, denunciato a piede libero, individuata dai carabinieri in via Imbriani. Messo sotto torchio, il proprietario si è presto risaliti ai due rapinatori che sono stati arrestati e messi a disposizione del magistrato di turno. La vittima, immediatamente assistita dal personale sanitario del locale punto di primo soccorso, ha riportato ferite da arma da taglio alla schiena e alla mano, giudicate guaribili in otto giorni. Nell'auto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato indumenti riconducibili a quelli usati dai malfattori durante il colpo oltre a due telefoni cellulari.